Le schede sono più basse Questo posto? Sì Sì Scusate saliamo così poi le fotografie le facciamo durante poi... No io sto filmando Allora questa qui è la torre idrica Tuttora questa è funzionante Attenzione questa fornisce... Perché la stazione non è solo i treni Ma anche quando andiamo al bagno e serve l'acqua Ecco questa qua è la torre idrica che fornisce tutta la stazione Ma bellissima Questa fornisce l'acqua in tutta la stazione Fornisce l'acqua in tutta la stazione Esatto e questa qua funziona con l'acqua che arriva da Contesse e anche da Camaro Quindi in questo momento mentre noi siamo qui si sta caricando e distribuisce acqua in tutta la fabbrica Quanto è grande la cisterna? La cisterna non so quanto sia grande Però vi consiglio che siamo a circa 25 metri di altezza Quindi per questo vi chiedevo se c'è una difficoltà a livello di vertigini Grazie